Il suo sguardo è sempre rivolto altrove, pronto ad osservare il particolare invisibile e un istante dopo a catturarlo per sempre con un clic. Non è frutto di un allenamento costante il suo, ma un dono innato che ne ha fatto uno dei fotografi più apprezzati al mondo. Iraniano di nascita, Reza De Gatti è uno degli otto personaggi cui il National Geographic ha dedicato un documentario per raccontarne la vita e la professione. Le frontiere per me esistono, non le frontiere geografiche, ma le frontiere emozionali, le frontiere degli esseri umani. Io cerco di conoscere gli esseri umani e dunque le mie più grandi emozioni sono sempre state misurate dalle frontiere di questi esseri e non dalle frontiere geografiche. Ciò che mi ha emozionato di più non è un luogo ma gli esseri che ho incontrato, quelli con i quali ho vissuto e di cui ho compreso la vita e la storia. Sono loro che mi hanno emozionato di più. Da reporter ha commentato gli orrori dei conflitti attraverso gli occhi dei carnefici e delle vittime, ma lui delle guerre ha un'opinione tutta personale. L'insieme o quantomeno una gran parte dei problemi di oggi nel mondo sono in realtà un solo problema, quello economico e strategico. Molti altri problemi di tipo religioso, se li si guarda meglio, non sono che la superficie di questa guerra economica e strategica. La vera realtà di tutte queste guerre è quella economica, è la potenza, il potere, è il mettere le mani su quella riserva, su quel pozzo di petrolio. È questa la vera realtà delle guerre di oggi e dunque il nostro ruolo dovrà essere quello di andare verso una direzione che porterà ad un mondo più giusto. Cosa la emoziona di più? Fotografare la guerra o testimoniare la pace? La mia risposta è fotografare la pace durante la guerra. Un grande progetto adesso lo ha calamitato in Sicilia, in una delle periferie più degradate di Catania. A chiamarlo è stato Antonio Presti, che da anni si batte per restituire identità al quartiere di Librino. Ho coinvolto uno dei più grandi maestri della fotografia internazionale, il maestro Reza, e insieme con lui, creando una squadra di 100 bambini, insieme con 40 giovani fotografi, realizzeremo uno dei più grandi archivi fotografici d'identità di una città, 30.000 immagini che manifesteranno la bellezza spirituale di tutti gli abitanti. E queste immagini saranno proiettate sulle facciate del quartiere. E a Librino, come ha già fatto a Kabul Reza de Gati, utilizzerà la sua arte come medicina per guarire luoghi ammalati di abbandono. È venuto il tempo di un grande progetto di immagine, di fotografia, di formazione. Un progetto molto complesso, per trovare soluzioni ai molti problemi che oggi esistono, soprattutto nelle città europee. Credo che siamo giunti ad un momento in cui l'immagine può condurre a quella che io definisco nel mio lavoro un'educazione visuale e informale. Con la fotografia si troverà una soluzione reale al problema delle periferie. E per trasferire questo concetto su un piano concreto, come ho fatto a Kabul, in Afghanistan, quando ho creato la ONG multimediale AINA, ho voluto farlo partire su un terreno molto difficile. Non c'era terreno più difficile dell'Afghanistan nel 2001, quando laggiù non c'era nulla. E l'esperienza ha mostrato che da quel nulla noi abbiamo fatto nascere una stamperia, una vera formazione per gli afghani. Questo nuovo progetto di Librino è legato ad un programma più vasto sulle periferie. Librino purtroppo è uno dei territori più difficili in Europa e se questo progetto riuscirà a mostrare le sue potenzialità al Librino, mi piacerebbe molto che diventasse il progetto pilota internazionale da lanciare in seguito in altre periferie del mondo. A presto, a presto.